I know there's no turning back E-oh, e-oh I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that E-oh, e-oh I'll play it on your face just to make it go and take it back E-oh, e-oh I'll lose my shit, I go crazy when I'm mad E-oh, e-oh E-oh, e-oh Un saluto a tutti ragazzi da Messi91, siamo su Elden Ring e siamo ancora nella capitale dorata Stiamo esplorando questa sorta di tavola rotonda O meglio, credo che questa sia l'originale su cui la nostra tavola rotonda è stata modellata E-eh, non ho picchiato nessuna parete, non ho toccato niente perché ero ancora in fase di elaborazione, diciamo così Quindi ora farei un giro di nuovo in tutta questa struttura menando tutte le pareti vedendo se c'è qualcosa di nascosto E poi prima di uscire apriamo la porta che ci siamo lasciata alle spalle Quella dove nel nostro, nella nostra tavola rotonda ci sono le due dita, diciamo così Va bene ragazzi, non ho trovato niente Non so se mi è scappato o meno, ma non ho trovato niente È giunto il momento di aprire questa porta Ok Niente Spada cifrata Oh Adesso la leggiamo un secondo Questo è il secondo trono, tra virgolette, che troviamo E ne abbiamo trovato uno anche dietro al signorino Godric Vorrei farvi ricordare questa cosa Non mi aspettavo si rompesse, ammetto E non mi ricordo se ho provato a rompere anche l'altro di Godric Spada nascosta, conferita dalle due dita e senza luce della tavola rotonda La lama è costituita da una sequenza amorfa di simboli E in quanto tal infligge danni sacri in grado di superare qualsiasi difesa In tempi ormai remoti, i campioni si trovavano nella rocca della tavola rotonda All'epoca le due dita vantavano ancora eccelse doti oratorie E un corpo pieno di vigore Mi aspettavo veramente di trovare una bomba più bomba all'interno di quella stanza Perché è la stanza delle due dita Cioè noi lì abbiamo le due dita Ascia di Falco Tempesta Ascia da battaglia simile a un falco Le cui ali si estendono a comporre la lama È l'arma tipica dei guerrieri che lottano per restare uniti alla tempesta Nonostante si trovino ormai lontani dal luogo natio Il loro cuore è colmo di orgoglio Dunque incline alla fragilità Che vada portata a Nefelli Perché il falco che abbiamo dato a lei non era il falco delle tempeste Mi ricordo male Adesso proverò quando passo la tavola rotonda vado a vedere Tanto è sempre la stazionaria Non ve l'ho più fatta vedere perché è sempre nel solito punto ferma Proverò a portarle quest'ascia la prossima volta Magari è sua, non lo so Allora noi adesso abbiamo un sacco di vie in realtà Perché c'è il coso leoni della sopra C'è questa via qua sotto C'è un drop sopra che dobbiamo prendere saltando E c'è una via anche per di qua se non mi ricordo male, giusto? Non so se sono stata qua Perché lo dissi qui è dove siamo saliti Però c'era il pezzo sotto Mamma mia abbiamo un sacco di cose da fare Allora io direi di andare qua sotto Perché sembra tutto chiuso per di qua Quindi finiamo prima di qua Poi penseremo a di là E penseremo anche a tornare indietro per i tetti Duniale d'acciaio madre Aspetta 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 Ma non ce l'abbiamo già anche questo? Ma perché? Perché? Per quale cacchio di motivo? Inizio a capire che devo smetterla di lamentarmi Perché sarà una prassi comune questa Di darti drop doppi Cioè non c'è niente qua Perché farmi scendere qua per darmi un drop doppio? Fammi capire Eh? Perché? Allora io proverei però a scendere su questo tetto E andare di là C'è roba che piange però di là Cos'è che piange? Che stracavolo sei tu? Posso avere un infarto per favore? Ah no Ha una faccia Ok Si intravede C'è la faccia solita del non morto E non mi attacca? Sono come padia questi cosi? Sono albinauri quindi? Esci Oh grazie Grazie Graziella E grazie a tutti Però finiamo bene di esplorare per di qua prima Vediamo Oddio Oh mi avevate detto Controlla bene i tizi con la trombetta Perché hanno le braccia lunghe E non hanno le gambe Chi ti ricordano? E io ho risposto Gli albinauri Questi sono esperimenti falliti Vero? Qualcuno stava cercando di creare Quelle creature E questi sono esperimenti falliti Chi ha creato gli albinauri? Noi non lo sappiamo Chi ha creato gli albinauri Sappiamo che sono stati creati Da qualcuno Io pensavo Renala Perché si trovavano All'Urnia Però adesso c'è pieno anche qui Quindi non lo so più Chi ha creato gli albinauri E sappiamo che in realtà Renala non crea gli albinauri Ma crea quei bimbi Tutti storpi Che effettivamente Non camminano però Si trascinano Va bene Vado a prendere il falò allora Perché ho visto che da qua Non si torna più indietro Se salto giù da lì Anzi Proviamo ad andare nel pozzo qua A vedere se si sale dall'altra parte Perché ho visto che c'è una scala Che arriva da sotto Di là Magari scendendo qua Si risale di là Ed è ovvio Che qua ci saranno cose terribili Cioè non pensate Che non me lo aspetti È una fogna Te l'aspetti La terribilanza E questa non si apre C'è una leva di là Chi lo sa Non sembra È qua però mi sta portando lontano Tra l'altro abbiamo cambiato mood Sembra quasi una catacombe È cambiata proprio la musica È cambiata l'illuminazione È cambiato tutto Sto posto non me la racconta Ragazzi Sto posto non me la racconta Puzza Puzza tutto E voi direte Eh sì È una fogna Eh sì È una fogna Non puzza E questi ratti sono talmente Rimbecilliti Gamanco ma attaccano E perché sto puzza tutto Ancora di più Questa porta è sospetta Sotterranei dei reietti Pensavo fosse uno di quei classici giganti soliti Ma questo è pieno di corna Corna terribili Come quelle descritte dal mangiaschifo Cioè non è da Ai 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 Oh porca miseria A te Sei uno di quei cosi Perché hai lo stesso mood Però Aspetta 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 Mi farò colpire Potrei anche morire Non mi importa Ma deve fare quel soffio Devo vedere Morbo Sembrerebbe Ma no La gilanza Aia La gilanza ha fallito Però Rola Ok La gilanza Di nuovo Ma do la lentezza Grazie ghiaccio Il mio piccolo elemento preferito Bravo lui Sei proprio pieno di corna di schifo Ah ok rimane a terra Perfetto Sono le stesse corna di quelle creature che troviamo in giro delle progenie Tipo Quindi non capisco se queste progenie siano state create effettivamente dalla maledizione del mangia sterco o meno Molto strano tutto questo Non mi siederò Però ci siamo Cioè volevo andare a controllare qua sotto perché pensavo fosse un pezzettino piccolo In realtà mi sono andata ad infognare in tutta un'altra area Vedi Come il mio solito Porca miseria Maschera formata da bende strettamente avvolte e imbevute di sangue Oddio Persino un mascheramento di siffatta bruttezza È più invitante del sembiante purulento che serve a celare Cacchio c'è proprio di mezzo Non riesco a vedere cos'è Quella cosa lì Non riesco a vedere porca miseria che cosa sia quella statua La nazione Vabbè C'è una statua Ok Dovrei saltare qua sotto Vero gioco Mi stai dicendo fortissimo salta giù E insomma Non è che io proprio ne abbia voglia Ecco Tra l'altro c'è palesemente qualcosa che viaggia avanti e indietro lì O forse è qui Non lo so C'è qualcosa che viaggia da queste parti Che cacchio Ma cretini Ma no Aspetta Che io non posso rollare coso Se no rollo di sotto Stare molto attenti qui Non sono quelli soliti Hanno un'altra faccia E hanno Delle cose Delle zampette Cosa cavolo sono ste cose Hanno tipo delle chele Ma che terribilanza è questa creatura Scusami Ci sono tutti sti sbarluccichi Incredibili Che sento Ma non vedo Tirano cose Vero? Dannazione No 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 Ma porca Visto che non mi posso muovere purtroppo E visto che non credo che casterò in questo punto E se lo farò penso Spero di ricordarmi Andrò full difesa Allora Vediamo un po' Forza Dove non lo vedo però Ah si eccolo Preso Ok No ce l'ha fatta Dannazione a lui Ma prima che sono piovuti i 69 nemici Da dove cacchio Ah eccolo Uno è lì Visto Vedi che piano piano Buono buono Guarda come si mimetizzano Sti maledetti Arrivederci Poi guarda per sicurezza Vedo pure quello là No Si è spostato Mi spari Maledizione a me Perché ho dovuto lanciare cose al signore Brava Jella Brava brava Vorrei sapere però perché Facciamo una pazzia Jella Jella per l'amor di dio Più o meno ho capito dai Il tempismo che devo usare Per farlo avere in posizione corretta Guarda te guarda È ridicola sta situazione Ma l'abbiamo fatto Vedi Perfetto Bisogna essere smart Ogni tanto nella vita Non si può andare solo a testa bassa E qua comunque ci saranno Due milioni di persone lo stesso Che mi uccideranno male Vero Dimmi che è caduto giù Ti prego No no Possiamo non cadere di sotto Guarda che ne è arrivato un altro Ecco qua Arrivederci Kine Ok Qua non muoio Vogliamo veramente fare questa pazzia però Andiamo dove portano queste scale Ah ho capito Ok No porca miseria Ho sbagliato l'ultimo roll Allora Ho deciso di tornare me stessa Perché la voglia di esplorare quest'area È tantissima Voglio andare avanti Voglio vedere Voglio scoprire E per farlo Mi ero messa un'armatura pesante E uno spadone Ma io ho fatto una scelta Ho respeccato Jella Ho deciso di farla diventare un mago Quindi io ce la devo fare Da mago Siamo tornati in noi Ho cambiato un po' gli incantesi Mi ho messo un po' di dardini Che non mi piacciono È vero Sono un po' contro io e dardini Però in quest'area mi servono frecce E quindi invece che usare frecce fisiche Useremo frecce tra virgolette dell'anima Quelle che erano le frecce dell'anima E che qui sono schegge Vediamo un po' il danno Mamma mia Più o meno è lo stesso della freccia E facendo così Tanti saluti a sto tizio Posso riprendermi le mie rune? Sembrerebbe di sì Ok Allora Round 2 Cosetto Fatti sotto Aspetta Questo soffio non mi dà il morbo mortale Però ha lo stesso colore E cosa dia non lo sei? Ero convinta che quello fosse qualcosa legato a Godwin Ora non credo più Sicuramente c'entra l'infezione del mangia sterco Però questo soffio Ha lo stesso colore di Godwin e Portisax Ma non fa il morbo mortale Ma mamma mia Muoreci Quanto era duro sto coso? Porca miseria Quanto? Troppo? No ma mi prendi in giro Allora mi avete detto che con la fiaccola mi si toglie la luce Perché uso il binocolo con la mano E quindi si toglie la luce E adesso che spiegazione avete? Perché si è tolta la luce? Eh? Dai Illuminatemi In tutti i sensi Forza Tra l'altro questo incantesimo adesso inizieremo a portarcelo più spesso Perché mi ero scordata fortissimo che ce l'avevo E fa un sacco di luce e mi lascia le mani libere Quindi ce lo porteremo dietro Sto globino di luce Dove diavolo mi sto andando a incastrare? Ma credo che sia uno shortcut questo Ma ero convinta di averne visti due che pregavano sta statua Non è così? Potrebbe non essere così Sì, 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 sì Quella della porta è questa quella, grazie Ok Mente 18 Quanti punti? 110 Ok Allora, da qua Secondo me qui non dovrei crepare Ok Tanto di là non sembra esserci niente Neanche di là Solo qua qualcosa mi ucciderà fortissimo Preparatevi ragazzi Mi uccide al 100% E ora farò una pazzia Lo so, ma la devo fare Non l'ho preso Ok 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 C'è peggio di una boss fight È per quello che parto con la luna di rani Ragazzi È peggio di una boss fight questo coso No Ne è arrivato un altro? Sì Madò Muoro Ah Quindi è così che si fa Capito Potevo portare invisibilità Porca miseria Ce l'ho Dannazione a me Da dove è arrivato l'altro? Scusami Ce n'è uno lì e l'altro? Eccolo là Madò Che vista Che vista Santa pazienza Cioè non mi ha visto questo qua Ma ho visto quello là dietro Incredibile sta cosa Vabbè allora se ne arriva uno solo Ne arriva uno solo Ma vedete che stare in questo tubo Effettivamente mi protegge? Io però vorrei gentilmente la signorina Birba Venga qua Venga a giocare con noi Perché se non viene a giocare qua Mi rompe tutta la strategia Venga Venga Adesso facciamo un gioco molto divertente Che si chiama Martella Iella Voi cercate di colpirmi Io schivo gli attacchi Se colpite il vostro amico Non importa Sono sicura che non se la prenderà Più tanto Ma sta facendo quello lì Questo tubo è la mia salvezza Lo so È stato messo qui apposta Vero? Vai vai che se giochiamo a giro giro tubo Questi si menano da soli Dai 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 Basta girare in questo tubo Me lo sento Lui è il mio migliore amico in questo momento Salve Ma sa che quasi quasi Oddio Ma mi ha veramente appena fatto una frog splash sto coso? Ma siamo pazzi? Abbiamo anche i crustacei che fanno wrestling adesso E va bene dai Ma niente Io non so cosa c'è alle mie spalle Ok Sei una maledetta Tubo salvami No no vieni qui Vieni qui Dove vai? Perfora 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 Ok Grazie sior tubo Per avermi appena salvato la vita Le voglio un sacco bene Lei è il mio NPC preferito Il video di oggi termina qui E volendo esplorare un'area che sembrava apparentemente chiusa Siamo finiti nuovamente a Narnia Certo una versione che puzza di morte e decomposizione Però comunque un universo pieno di cose da esplorare Anche perché noi sappiamo che sotto la capitale stanno un sacco di porcherie Tipo il mangia sterco E le tre dita Quindi dobbiamo esplorare tutto molto bene per non farci scappare nulla E io già ho visto che nel soffitto ci sono 72 buchi Che dovremmo trovare le entrate perché dovremmo prenderli tutti E soprattutto ci sono talmente tante vie in quest'area Che mamma mia se non mi perdo qualcosa sono un mago Ma credo che mi perderò probabilmente di tutto Perché è veramente un labirinto qua sotto Però ci starò attenta Probabilmente ci perderò 7-8 ore ad esplorare tutto Prometto che vi taglierò le cose superflue come già ho fatto Perché già ho perso un sacco di tempo Però voglio controllare bene quest'area Perché secondo me il mio nasino mi dice che qui ci sono grandi cose da scoprire E noi dobbiamo trovarle Comunque per oggi ci fermiamo qui Io come sempre vi ricordo di lasciare un commento Un like ed iscrivervi al canale se non l'avete già fatto Vi auguro una buona giornata Un saluto a tutti